Ciao a tutti amici di Androidblog.it Oggi proviamo la fotocamera del Mode Life One e la registrazione video che avviene a 1920x1080 pixel Proviamo la solita inquadratura Proviamo anche un cambio di fuoco Vede via la possibilità di mettere a fuoco manualmente durante la registrazione Proviamo anche un pan veloce Un controsole E anche uno zoom Ovviamente vedete ha perso la messa a fuoco Lo zoom digitale fino a 4x In cui la qualità delle immagini non è delle migliori Video registrato in Full HD da Mode Life One